Centroteri, in via Gino Palumbo numero 19, a Cava dei Tirreni. Dopo il pienone registrato domenica scorsa per il derby con Lavellino, la Cavese si prepara a ricevere il Monopoli davanti a un pubblico altrettanto importante nella quinta giornata del campionato di calcio di Serie C. Difficilmente si potranno registrare le 4.500 e più presenze del derby, anche per la distanza che c'è tra le città di Monopoli e Cava dei Tirreni, che non è breve come quella tra Avellino e Cava, quindi non verrà certamente riempito il settore ospite. Cavese e Monopoli si giocherà domani sera alle 20.45, sarà uno degli anticipi della quinta giornata e sarà la seconda partita interna consecutiva per i metelliani al Simonetta Lamberti. E poi anche nel weekend successivo la Cavese giocherà in casa, con il Latina, dopo il turno infrasettimanale che la squadra guidata da Raffaele di Napoli avrà sostenuto contro la team Altamura, martedì 24 sul neutro di Bari. I bianco-blu proveranno a sfruttare a proprio vantaggio il fattore pubblico, contro una formazione monopolitana che è stata comunque in grado di segnare sei gol giocando fuori casa, per cui va bene ricercare il gol, ma sempre con giudizio. La probabile formazione della Cavese per domani. Boffelli, Rizzo e Maffei, Peretti, Piana e Loreto, Citarella, Vitale, Fella, Pezzella e Sorrentino. Da valutare le condizioni di Saio e Conatè. Partita da ex per Giuseppe Fella, il quale nella stagione 2019-2020, quella troncata dal Covid, con sole 30 giornate di campionato disputate, segnò per il Monopoli 17 reti. La squadra si qualificò per i play-off. Poi Fella tornò a Monopoli due anni dopo e concluse la stagione 2022-2023 con sole due reti all'attivo. Una specie di record negativo. E partita da ex, tra virgolette, anche per il centrocampista Gaetano Vitale, che però, a differenza di Fella, è stato a Monopoli senza poter giocare molto. Probabile risposta del Monopoli, allenato da Alberto Colombo. Vitale, Viteritti e Pace, Battocchio, Angileri e Miceli, Bruschi, Calvano, Vasquez, Derisio e Scipioni. Il tecnico ex Virtus Francavilla dovrà decidere la tattica. Se sarà un 3-4-3 o un 4-3-3, dipenderà dalla posizione in cui verrà utilizzato Battocchio. Colombo ha anche gli uomini contati in difesa, dove mancano lo squalificato Cristallo e dove potrebbero mancare gli acciaccati Bizotto, Cascella e Fermini. Squalificato pure un attaccante per il Monopoli. Si tratta di Yeboa. Può partire dalla panchina l'ex che gioca nelle file biancoverdi, il centrocampista Danilo Bulevardi, che a Cava lasciò anche un buon ricordo nell'annata 2019-2020. L'arbitro dell'incontro è il signore Lorenzo Maccarini della sezione di Arezzo. I suoi assistenti Nicosia di Saronno e Bartoluccio di Vibo Valencia. Il quarto uomo sarà Testoni di Ciampino. Autorizzato un minuto di raccoglimento domani sera per ricordare Salvatore Schillaci, ex attaccante della Nazionale, ma anche per ricordare Cristian Argurio, direttore sportivo in carica del Novara, deceduto l'altro ieri. Ci ha lasciato in settimana anche il dottor Ernesto Alicicco, già medico sociale della Roma e poi del Brescia.